Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo, 88, e benvenuti in un appuntamento con Vixies, l'angolo del muro è dedicato alle serie TV, prima di iniziare però voglio darvi un paio di comunicazioni. Come sapete, il 24 marzo verrà reso disponibile in Italia Disney+, la piattaforma streaming di Disney, dove trovate tutti i film Marvel, le serie Marvel's Attack Universe di prossima uscita, quindi WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, la serie Sushi Hulk, quella su Occhio di Falco, What If, eccetera, più un sacco di altri prodotti di casa Disney come i film e le serie di Star Wars, compreso The Mandalorian, oppure tutti i film Disney Pixar, più anche le serie a cui eravamo legati da picquini come Darkwing Duck, Gargoyle, eccetera. Quindi, fino al 23 marzo sul sito di Disney+, c'è una offerta interessante che vi permette di abbonarvi a 59,99€ invece di 69,99€. Trovate, è scritto sotto il link che vi riporta alla home page del sito dove potete usufruire dell'offerta, siccome questo è un link di affiliazione, se lo utilizzate per abbonarvi, che intanto magari già lo volete fare, mi supportate anche contemporaneamente. Quindi, scelta vostra e vi ricordo sempre a promozione 3x30 sul sito di Pampling, trovate il link personalizzato in descrizione, fino a 29 di febbraio, se comprate 3 magliette, comprese quelle più nuove, avrete la possibilità di averla a 30€ in tutto, quindi 10€ la maglietta, a prescindere da quanto costino singolarmente sul sito. Quindi, detto questo, bando alle ciance e iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla! Allora, ieri su Instagram ho fatto un sondaggio delle storie in cui vi chiedevo che video avreste voluto. La scelta era tra la recensione di Ragnarok e la serie Netflix, oppure un video in cui vi avrei consigliato film e serie da guardare su Netflix e Amazon Prime Video. Ha vinto quest'ultimo, però ciò non significava che non avrei mai portato la recensione di Ragnarok. E infatti è di questo che voglio parlare oggi. Se non avete visto tutta quanta la prima stagione, vi sconsiglio vivamente di proseguire la versione di questo video, perché naturalmente farò spoiler, come sempre, quando parlo di prodotti seriali qui sul canale, perché mi piace andare nello specifico. E vi dico che Ragnarok, serie in collaborazione tra Norvegia e Danimarca, a me è piaciuta molto, anche se ha un paio di difettucci che mi facevano piuttosto innervosire. Premetto che a me piacciono da morire tutte quelle storie che rielaborano e adattano alla nostra epoca i miti e le leggende antichi. Ora, mi piace un sacco American Gods. Quando ero un po' più piccolo, ma neanche troppo piccolo, comunque una decina di anni fa, mi ero anche abbastanza intrippato con i romanzi di Percy Jackson scritti da Rick Riordan, però in quest'ultimo caso alcuni elementi un po' puerili mi avevano fatto storciare il naso, ma era una storia godibile. Ragnarok parla di Magne, questo ragazzone alto, biondo, molto introverso, con un forte senso della giustizia, che si trasferisce nel paese natale della madre insieme a lei e al fratello. Ora, lui già dalle prime puntate si scopre avere qualcosa di particolare. Non appena arriva in questo villaggio norvegese, ecco che arriva questa donna anziana che lo tocca e sblocca in lui qualcosa. In sostanza si capisce fin da subito, da prima ancora che la serie ce lo dica, che Magne è la reincarnazione di Thor. E dico reincarnazione facendo il segno delle virgolette, perché in realtà questa cosa non è spiegata. E' Thor, ok? Effettivamente, da un punto di vista estetico, lui ci sta come Thor. Come detto, biondo, occhi azzurri, molto grosso, con un fortissimo senso della giustizia, ed è considerato a tutti però stramboide. Ora, in questo villaggio c'è questa famiglia, gli Yutul, che da decenni inquinano il fiordo con i loro liquami tossici, perché hanno questa grossa fabbrica, e questa ragazza con cui Magne diventa subito amico, dopo qualche giorno viene uccisa proprio dal capofamiglia, viene detto subito. Il punto qual è? Il punto è, Magne viene sconvolto da questa cosa. Il punto è che lui, Isolde la ragazza, la conosce da qualche giorno. Per amore del cielo, è una cosa che sconvolgerebbe qui un po' tutti, ma lui viene sconvolto particolarmente, non è che fossero amici di vecchia data, quindi questo suo impuntarsi l'ho trovato leggermente forzato, però va detto che il personaggio, come ho già accennato, ha un fortissimo senso della giustizia, capisce che si sta insabbiando la cosa e va fuori di testa, cioè è incazzato a meno. Nel frattempo inizia a scoprire i propri poteri, come ad esempio una forza straordinaria che gli permette di abbattere un pino a mani nude, oppure la capacità di lanciare un martello, ovviamente, a più di 500 metri di distanza. Corre velocissimo, batte di due secondi il record del mondo dei 100 metri piani e il punto è, la cosa che mi ha fatto incazzare da morire. Hai capito di essere speciale? A un certo punto la signora anziana che ti ha toccato, ha sbloccato qualcosa, ti dice chiaramente di essere Thor, ma allora, invece di piagnucolare per il fatto che nessuno ti crede, che tutti ti ritengono responsabile di certe cose che stanno accadendo, non puoi prendere tua madre, tuo fratello o anche solo un poliziotto e dire venga con me, prendi un cazzo di martello, lo lanci, gli fai vedere che sei forte, sei praticamente un dio e forse forse qualcosina qualcosina dovrebbero capire, se non proprio la polizia magari a madre e fratello. È inutile che vai a dire a tuo fratello so lanciare un martello a oltre 500 metri di distanza e poi non glielo dimostro. Dice anche alla sua amica che poi in realtà è quella, un'altra amica che in realtà è la ragazza che gli piace, ma lei fondamentalmente lo ritiene strambo perché effettivamente se arrivasse un tizio che già è un personaggio un po' particolare mi dicesse lo sai che riesco a lanciare un martello a mezzo chilometri di distanza e gli dico sì, vabbè dai, torna al tuo bianchino al bar e chiusa lì. Se però questo mi dicesse guarda ti mostro e prendersse un martello e lo lanciasse effettivamente a mezzo chilometri di distanza direi ah, me coglioni! Cioè capito? È il fatto che lui neanche con le persone di cui si fida riesce a venire in mente dimostrare effettivamente quello che sa fare cioè altrimenti è ovvio che possono sembrare solo i deliri di un pazzo perché è una cosa talmente incredibile che tutti diventerebbero San Tommaso e se non ci ficassero il naso non ci crederebbero mai basterebbe farglielo vedere gli Yutul invece sono i giganti di ghiaccio i giganti di ghiaccio sono i cattivi da secoli prosperano dopo questa battaglia di cui si fa menzione in cui sono stati sconfitti degli dei e sinceramente trovo che sia una storia molto interessante al di là di questa cosa che boh questa atmosfera forse anche troppo teen perché le due cose che mi hanno fatto un po' incazzare sono il fatto che Magne sembri non aver voglia di dare un seguito alle sue parole e il fatto che hanno un pochino troppo giocato sulla parte teen sugli amori il figlio degli Yutul che si innamora della ragazza a cui piace Magne lei lo ricambia ma lui non può fraternizzare con gli umani e a un certo punto la famiglia gli ordina di ucciderla per dirne una che poi alla fine sta per ammazzarla però poi si pente insomma una roba un po' così e devo dire che però nel complesso è una serie che consiglio a me personalmente è piaciuta mi è piaciuta la rielavorazione di alcuni elementi della mitologia non rena mi è piaciuto molto il fatto che Thor sia questo ragazzo che ancora non ha molta consapevolezza di se stesso mi è piaciuto il fatto che il fratello sia chiaramente Loki anche se per ora non ha mostrato alcun tipo di potere però effettivamente è inclina a fare scherzi anche piuttosto pesanti a dire bugie a mentire spesso quindi diciamo che ha tutte le caratteristiche di Loki ma non ha ancora mostrato poteri c'è da dire che ha interessi e atteggiamenti che ricordano molto quelli degli Yutul che sono proprio i giganti sappiamo che Loki era il fratellastro di Thor ed era di base anche lui aveva legami di sangue con i giganti del ghiaccio quindi ci sta che abbia affinità con gli Yutul perché lui in parte è gigante del ghiaccio quindi questa cosa l'ho trovata interessante come quando vanno a cena dagli Yutul e c'è la figlia che dice benvenuti a Yutulheim che è la dimora dei giganti per cui credo che da questo punto di vista se la siano giocata anche piuttosto bene il problema è che più si va avanti più le situazioni diventano un pochino ridondanti Magne scopre qualcosa ma nessuno gli crede allora lui si incazza e non fa niente puntata dopo Magne scopre qualcosa gli altri non gli credono lui si incazza e non fa niente lo vogliono mandare da uno psichiatra lo vogliono mandare in galera vogliono fargli di tutto ma lui non c'è neanche un secondo in cui pensi va bene adesso prende una cazzo di auto e te la lancia in faccia il professore padre di Isolde lo vede in un impetto di rabbia spostare a mani nude un'automobile è questo che sinceramente mi lascia un po' perplesso da un punto di vista registico non è male ci sono alcune scelrazioni interessanti non sempre gli effetti visivi sono di alto livello però si conferma una cosa quando si guarda una serie europea si capisce subito di non star guardando una serie statunitense o britannica perché il modo di girare è completamente diverso ma quando si parla di serie netflix europee la storia cambia perché netflix sta uniformando ormai da anni tutti i suoi prodotti in modo che se guardi dark ti rendi conto che è una serie europea solo perché se la guardi in lingua originale parlano in tedesco la stessa cosa vale per Ragnarok io l'ho vista in norvegese perché io comunque le serie anche se si tratta di lingue che non capisco preferisco guardarle in lingua originale metto i sottotitoli perché mi godo appieno l'interpretazione degli attori poi magari qualcuno quando si tratta di serie o film girati in lingue loro sconosciute preferiscono il doppiaggio italiano io se posso scegliere prediligo sempre la lingua originale anche nel caso di kingdom che è tutto in coreano preferisco di gran lunga gusto mio quindi da un punto di vista registico da un punto di vista anche della fotografia e tecnico in generale è una serie che in realtà non sembra neanche europea capisci che lo è non solo dalla lingua ma anche dai paesaggi ovviamente perché è ambientata in Norvegia tra l'altro mi piace molto l'idea di ambientare questo villaggio immerso in questa natura che sarebbe incontaminata se non fosse che effettivamente è contaminata dal momento che gli utul la stanno distruggendo si confondono tra gli umani ma non sono umani e anzi li disprezzano e li disprezzano perché perché un tempo venivano venerati da loro adesso invece no e sono tornati a essere considerati dagli umani nel momento in cui mescolandosi a loro sono diventati una famiglia molto potente che di fatto controlla il paese in particolar modo quella cittadina quindi in questo senso lo trovo molto interessante mi piace anche il primo incontro con il padre di famiglia degli utul che ha con sé il cane che in realtà poi è una bestia mitologica che Magne ammazza e lui fin da subito lo vede per quello che effettivamente è questa bestia col pelo arruffato le zanne sguainate la bava che cola e gli occhi color bianco lattiginoso quindi un vero e proprio mostro infernale è una serie che però io vi consiglio ve la consiglio dal momento che l'ho trovata interessante l'ho trovata molto godibile si guarda proprio liscia senza alcun tipo di problema ve l'ho consigliata anche nel video che ho fatto ieri però volevo dare un approfondimento dal momento che in tanti mi avete chiesto ma Victor di Ragnarok non parlerai certo era sicuro che ne avrei parlato anche se ho finito oggi di vedere I'm Not Okay With This con Sofia Lillis altra serie Netflix sette episodi da venti minuti l'uno quindi si guarda veramente in un paio d'ore che ho trovato veramente interessante anche quella forse ne parlerò a un video dedicato vediamo è una cosa molto alla Carrie il romanzo di Stephen King è stato pretrasposto in un paio di film ma quello veramente memorabile è il Carrie di The Palma il remake di qualche anno fa non lo considero neanche perché era una monnezza terribile tornando a Ragnarok devo essere sincero sì ha dei difetti non ultimo il fatto che la storia in sé è interessante ma è troppo diluita cioè sembra che prendano tempo e quando ho visto gli sviluppi che stava prendendo nell'ultima puntata ho pensato cazzo quanto manca guardo mancavano dieci minuti e non credevo possibile che sarebbero riusciti a chiudere tutto quanto questa storyline quella della prima stagione in dieci minuti infatti così non è stato la serie termina nel momento in cui diventa particolarmente interessante ovvero con lo scontro tra il capo degli Yutul che si rivela più o meno per quello che è che combatte contro Toro sta per ucciderlo e lui scatena la forza di fulmini gli fa piovere dei fulmini addosso e finisce così con loro due che sembrano morti a terra in realtà sappiamo che non lo sono sicuramente mi chiedo come si svilupperà nelle prossime stagioni già nella seconda inseriranno altri elementi della mitologia non rena ad esempio l'anziana la cassiera dello spar che ha risvegliato i suoi poteri è una sorta di profetessa che è colei che per l'appunto dona la consapevolezza all'eroe che però deve capirla da solo e con lei c'è anche questo signore anziano sulla sedia di rotelle con una benda sull'occhio io ho pensato sarà Odino ma perché sono anche i corvi ogni tanto nel film ma se è Odino perché allora non ha fatto il culo agli utul cioè non che Odino cioè non che Toro non sia forte però cazzo parliamo di Odino può essere che sia troppo debole per poter effettivamente fare qualcosa e quindi ci voglia per forza Tor tra l'altro è bello anche il fatto che gli utul a un certo punto capiscano che lui è un eroe non hanno ancora capito che è Tor e cercano in tutti i modi di liberarsene ma non riescono quindi devono a ogni costo cercare di fare qualcosa perché questo li vuole fermare ed è anche interessante il fatto che questa versione di Tor sia una versione estremamente insicura non è il Tor della Marvel che poi vabbè anche il Tor della Marvel ha avuto i suoi momenti di insicurezza però è un Tor diverso perché non è un Tor consapevole è un Tor che è rimasto dormiente per migliaia di anni e che all'improvviso si ritrova a dover affrontare qualcosa che non conosce perché ha perso fondamentalmente la memoria non si è capito se lui sia effettivamente Tor se abbia i poteri di Tor credo che sia proprio la sua reincarnazione quindi una reincarnazione senza coscienza di essere stato un prode guerriero dai poteri divini quindi l'ho trovata comunque una serie guardabile molto guardabile anzi in realtà io quando è finita l'ultima puntata ho pensato cazzo ma io adesso devo aspettare un anno per avere la seconda ma vaffanculo ma non potevano magari gestire meglio i tempi perché per appunto è stato dato troppo spazio a tutte le problematiche da adolescenti di cui mi fregava fino a un certo punto nel momento in cui sai che queste torre che questi sono i giganti di ghiaccio vorresti vedere uno scontro tra di loro non che lo scontro venga relegato negli ultimi dieci minuti anzi negli ultimi tre minuti se vogliono essere sinceri questa cosa mi ha un po' dato fastidio quindi mi auguro che nella seconda stagione gestiscano un po' meglio i tempi perché è la cosa più importante in assoluto quella quindi vorrei che facessero una cosa di questo tipo non so se riusciranno effettivamente a farla io incrocio le dita anche perché mi piace molto di più questo Ragnarok della seconda stagione American Gods che è stata molto pasticciata quello è un prodotto Amazon Prime Video che troviamo su Amazon Prime Video ma è un originale starts avrei preferito di gran lunga una gestione più simile a Ragnarok senza pasticci vari però anche Ragnarok ha bisogno che venga aggiustato il tiro peraltro la parte investigativa con Magnin che cerca di capire chi ha ucciso i soldi è anche interessante quando lui per la prima volta si ribella e capisce i suoi poteri quando si ubriaca con l'idromele aiuto Lime che spacca il bersaglio con la roccia che fa il braccio di ferro con la preside che è la moglie della famiglia e la vede per quello che è ovvero un mostro abominevole e va in bagno e si vede con la barba quella scena è bella ma è anche un po' realizzata male perché ha questa barba proprio che sembrano peli di culo attaccati male con la colla ha detto ma non potevano realizzare un po' meglio questa cosa comunque lui si vede in versione Thor nello specchio vede quello che che è realmente e lì si è in metà serie e ti danno conferma di una cosa che già si sapeva però è veramente bello onestamente vederlo però anche lì il padre famiglia di Yutul si trova un martello con una runa incisa che gli ha sfondato l'auto ora continua a dire anche dopo quell'episodio dobbiamo capire chi è se è un eroe dobbiamo capire chi è dobbiamo capire chi è scusami ma se sai che te l'ha sfondata lui ma non ti è venuto in mente che forse un martello con una cazzo di runa norrena incisa sopra potrebbe essere indice di uno e un solo dio cioè Thor il dio del tuono ancora sei lì che stai ragionando e cercando di capire ma chissà quale dio sarà aspetta secondo me Buddha chi cazzo può essere il martello con la runa cioè uno un dio norreno brandiva il martello non è che c'erano tanti quindi anche qua è come se volessero ritardare la resa dei conti però in maniera un po' forzata quindi da quel punto di vista spero che ci riragionino sopra e capiscano che devono stringare un po' in modo da rendere molto più denso gli avvenimenti importanti e con meno cazzate ogni singolo episodio a me personalmente piacerebbe di più poi per il resto abbiamo dei personaggi anche interessanti la madre mi è piaciuta anche se voglio dire è un personaggio abbastanza è utile ma è anche irritante sotto certi aspetti però è una brava madre che si batte per i suoi figli anche se è faticoso perché uno dei due è molto problematico gli utul mi sono piaciuti tutti madre padre figlio figlia stronzi menefreghisti il figlio è l'unico che mostra un barlume di coscienza un barlume di umanità come se stare a contatto con gli umani lo avesse in un qualche senso contaminato e è rimasto anche invischiato in una storia d'amore Isolde è un personaggio interessantissimo l'hanno ammazzata subito la ragazza che piace a Magne invece è un personaggio anche quello molto irritante anche perché hai questo qua che è un bravo ragazzo anche se un po' introverso che si capisce che provoca qualcosa per te ma tu naturalmente vai col ricco stronzo che anche se sta devastando la città in cui vivi e ha causato il tumore di tuo padre comunque vuoi stare con lui cioè anche lì veramente masochismo oltre ogni livello possibile immaginabile e soprattutto è la friendzone più stupida della storia perché io fossi stato in Magne e avrei detto vabbè questa qui preferisce il tizio la cui famiglia ha avvelenato le falde aquifere sta ammazzando la città e a momenti ti ammazza il padre e gli crea un disagio incredibile una brutta malattia e tu comunque preferisci andare con lui ma vattene un po' a fanculo senti veramente cioè scusate ma lei è veramente stronza oltre ogni livello di comprensione umana e poi abbiamo anche dei personaggi molto di contorno che però non mi sono dispiaciuti poi anche alla festa quando c'è il fratello di Magne che mette sulla musica che piace YouTube che la musica è nella lingua antica che si mettono a ballare in quel modo stranissimo tutti applaudono io dico ma che cazzo applaudi cioè se c'è una cosa che potrebbe far capire che questi sono fuori come di balconi o che comunque hanno qualcosa che non vanno è vederli ballare in quel modo come se fossero indemoniati io la prima cosa che avrei fatto avrei chiamato la polizia e avrei detto sentite potete portarli da qualche parte che mi stanno facendo paura e invece no quindi pur con qualche ingenuità io comunque Ragnarok sento di averla apprezzata bella anche la colonna sonora con diversi brani di black metal che peraltro nasce un po' in quelle zone e quindi vi consiglio assolutamente di recuperarla anche perché come sapete in questi giorni è una cosa interessante recuperarsi qualcosa nelle piattaforme di streaming visto che si consiglia di stare in casa in alcuni luoghi addirittura bisogna stare in casa finché questa situazione un po' brutta non finirà peraltro vi dico che in descrizione qui sotto trovate anche il link alla Cineteca di Milano perché hanno reso disponibile in occasione del fatto che i cinema sono chiusi e che quindi questo coronavirus sta un po' mettendo in ginocchio il paese da un punto di vista anche economico e non si può uscire praticamente di casa questa videoteca con film classici film capolavori con oltre 500 titoli basta andare sul sito andare in alto a destra scegliere videoteca biblioteca o biblioteca videoteca comunque con la voce lì andate in basso c'è scritto registrati tenete presente che a volte magari non arriva la mail di conferma perché di fatto non è un sito con i server della NASA pensato per una fruizione così ampia per cui magari a volte non funziona benissimo però è comunque un'iniziativa molto molto bella per cui vi consiglio di recuperare Ragnarok ma vorrei sapere da voi cosa ne pensate quindi con un commento qui sotto fatemelo sapere perché sono molto 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 interessato al vostro parere io quindi vi abbraccio questo tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao ciao